Quando ci sbarazziamo di uno smartphone o di un tablet per dismetterlo o per rivenderlo sul mercato di seconda mano, ci accertiamo sempre di aver cancellato tutti i dati sensibili personali, riportando il device alle condizioni di fabbrica. Quasi nessuno però, inspiegabilmente, si comporta allo stesso modo quando l'oggetto da dismettere o vendere è un'automobile. Una pratica che sarebbe meglio evitare, soprattutto con i veicoli più moderni, capaci quindi di incamerare una quantità di dati veramente significativa. Un'auto moderna è in grado di contenere di tutto, posizioni più o meno recenti, contatti, combinazioni, password, applicazioni. Le chiavi della nostra vita si annidano in queste righe di codice. Non vedremo cosa fare nel dettaglio, anche perché ogni modello di auto e ogni sistema multimediale è fatto alla sua maniera, ma cercheremo di capire quali sono i dati fondamentali da cancellare. La prima cosa da fare è interrompere del tutto la sincronizzazione tra il proprio smartphone e il sistema multimediale dell'auto. In questa fase dobbiamo accertarci di andare a cancellare tutti quei contatti che venivano condivisi tra il nostro device e l'automobile. In poche parole, i contatti registro chiamate e la cronologia delle telefonate. Una volta che ci siamo occupati dei numeri di telefono e quindi della rubrica, sarà importante andare a lavorare sugli indirizzi rimasti in memoria, perché ovviamente i sistemi di navigazione registrano una cronologia completa delle posizioni che abbiamo ricercato. Qui si possono annidare dati veramente sensibili che è bene non lasciare in dote al futuro proprietario del veicolo, per esempio l'indirizzo personale della nostra casa o del nostro lavoro o, peggio, della scuola dei nostri figli. Anche in questo caso, quindi andando a lavorare sul menu delle impostazioni del sistema di navigazione, sarà importante accertarsi di aver cancellato tutta la cronologia di navigazione. Questo è ancora più importante quando si ha un'auto capace di registrare le frequenze di apertura del cancello automatico del nostro garage su un comando di bordo dedicato. Eh sì, perché ci manca solo che il futuro proprietario abbia l'indirizzo e anche la facoltà di aprire. Il cancello automatico. In questo caso è importante ricordarsi di cancellare oltre agli indirizzi anche le frequenze rimaste in memoria di questi comandi dedicati, che vanno ovviamente ripristinati alle condizioni di origine. È opportuno poi disinstallare eventuali applicazioni mobili previste dal costruttore per quel determinato modello. Sapete che su tantissime automobili contemporanee le case auto prevedono delle app dedicate con cui si possono controllare tutta una serie di funzioni del mezzo. E anche in queste applicazioni si annidano tantissimi dati personali. Quindi prima di vendere meglio disinstallare e cancellare tutto, anche in questo caso. L'ultimo suggerimento per me imprescindibile è quello di rimuovere eventuali iscrizioni a servizi digitali connessi a pagamento. Eh sì, perché in caso contrario il futuro proprietario continuerà a usufruirne, ma a spese vostre. Insomma, abbiamo visto che quando si deve vendere un'automobile, non basta più darle una semplice lavata dentro e fuori, ma bisogna occuparsi di non lasciare più tracce. In ogni caso, se si vogliono evitare brutte sorprese e anche inutili perdite di tempo, si può sempre decidere di optare per i programmi di usato garantito, come Mercedes-Benz Certified, che provvedono a ripristinare totalmente i sistemi multimediali delle auto rimesse in vendita. E come fanno? Beh, durante i 150 controlli previsti dal programma, per esempio, si vanno a cancellare tutti i dati sensibili che sienano raccolti nei sistemi multimediali di bordo nel corso del tempo, nel corso della precedente vita dell'auto. Una procedura che tutela e mette al sicuro sia il nuovo che il precedente proprietario. In più, se si acquista una Mercedes usata, certificata dal programma Certified, si potrà usufruire di tutti i servizi connessi previsti da Mercedes Mi, proprio come se si stesse acquistando una Mercedes completamente nuova. Con una differenza, però. Nel caso di un'auto Certified, i servizi che si ritengono utili andranno acquistati in abbonamento, mentre sul nuovo sono gratuiti e compresi nel prezzo d'acquisto per i primi tre anni. Ma cosa si può realmente fare attraverso questa app dedicata se compro una Mercedes usata? Per prima cosa, occorre abbinare la propria Mercedes al proprio smartphone. Una volta eseguita la registrazione, sarà possibile accedere a una marea di servizi, piccole e grandi funzionalità pensate per migliorare la vita di tutti i giorni. Attraverso l'app sarà possibile, per esempio, pre-riscaldare o pre-climatizzare l'abitacolo, oppure aprire o chiudere i finestrini e tetto scorrevole, ovviamente a distanza, ma anche monitorare il veicolo e seguire i suoi spostamenti. Funzionalità utili, per esempio, quando si lascia l'auto in un parcheggio molto grande, oppure in una struttura dove bisogna lasciare giù anche le chiavi. Attraverso Mercedes Mi, però, si possono eseguire anche operazioni più complesse e delicate. Si può parcheggiare l'auto attraverso lo smartphone, oppure si possono limitare le prestazioni e la velocità del mezzo, qualora la si debba lasciare, per esempio, a un figlio neopatentato. Ma si possono anche avere informazioni sul meteo, sul traffico e aggiornamenti in tempo reale. Insomma, con i servizi connessi si apre un mondo di opportunità e questo vale anche per le Mercedes usate e certificate da Certified. La cosa interessante è che la casa di Stoccarda ha esteso la possibilità di usufruire dei servizi connessi e quindi, di fatto, di utilizzare l'app Mercedes-Benz Mi anche ai modelli più datati, addirittura quelli prodotti a partire dal lontano 2002. È una notizia che a me è piaciuta tantissimo, visto che adoro così tanto le mie amate Young Timer. Il tutto è reso possibile grazie a un dispositivo che si chiama Mercedes Mi Adapter, ecco come funziona e, soprattutto, cosa permette di fare. Attraverso questo aggiornamento, anche una Mercedes usata più datata può offrire una serie di servizi connessi reali e utili. Mercedes Mi Adapter permette di conoscere, per esempio, la posizione della propria vettura in tempo reale, ma anche lo stato di salute del motore e gli interventi previsti dalla manutenzione, ma fornisce anche suggerimenti per migliorare il proprio stile di guida. Funzionalità scontate sulle auto di oggi, che diventano però super interessanti per auto usate che, in origine, magari, questi servizi connessi non li potevano avere, nemmeno a pagamento. Ma adesso ve lo devo chiedere, quanto contano per voi i servizi connessi, anche e soprattutto sulle auto usate? E soprattutto, è un'auto usata come la comprereste? Da un privato? Magari con ancora tutti i dati del precedente proprietario nel sistema multimediale? O invece preferireste orientarvi su un usato certificato, come quello di Mercedes-Benz Certified, che ripristina tutto con condizioni pari al nuovo? Raccontatemelo nei commenti qui sotto. Se vi va, un caro saluto da Matteo Valenti. Ciao, alla prossima puntata.